Musica Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio alle ultime notizie. Una donna di 37 anni è stata uccisa dal marito al culmine di una lite, forse scoppiata per motivi di gelosia. È successo nella notte a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. La vittima, Nidia Roana Lozza Rodriguez, originaria della Colombia, è stata colpita dal marito Mirko Righetto, 48 anni, con un coltello da cucina. Sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare i carabinieri che lo hanno arrestato, recuperata anche l'arma dell'omicidio. La coppia ha una bambina di pochi anni. In queste ore i militari stanno lavorando per ricostruire questa tragedia. La coppia sarebbe stata in crisi. Secondo indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato colto da un raptus a causa delle minacce della donna di non fargli vedere la piccola in caso di separazione. Proseguiamo con altre notizie. Parliamo adesso di migranti. In questi giorni, come sapete, è stato approvato il decreto Menniti. Allora cerchiamo di capire nel prossimo servizio quali saranno le principali novità. Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge Menniti in materia di immigrazione. Il testo su cui martedì il Governo aveva incassato la fiducia a Montecitorio è legge. I voti a favore sono stati 240, 176 contrari, 12 gli astenuti. Il decreto prevede risposte più rapide per le richieste d'asilo e centri di rimpatrio moltiplicati sul territorio. Ecco le principali novità. Verranno eliminati i CIE, centri di identificazione ed espulsione, e saranno sostituiti dai centri di permanenza per il rimpatrio. Queste nuove strutture dovranno essere distribuite sul territorio, all'esterno dei centri urbani. Potranno ospitare al massimo 150 persone e dovranno garantire condizioni di trattamento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Queste strutture ospiteranno i migranti da rimandare in patria. Per garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione vengono stanziati 19 milioni di euro. Tra le novità, la riduzione dei tempi delle domande di asilo. Per velocizzare le pratiche verranno assunte 250 persone per supportare le commissioni che esaminano le richieste. Saranno istituite 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo presso ciascun tribunale ordinario del luogo in cui hanno sede le corti d'appello. Deciso inoltre il taglio dell'appello per i ricorsi contro il diniego dello status di rifugiato che diventa ricorribile solo in Cassazione. I prefetti d'intesa con i comuni interessati promuoveranno ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti di protezione internazionale su base volontaria in attività di utilità sociale in favore della collettività locale. Possibile la predisposizione di progetti ad hoc anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. In provincia di Padova ieri sera una donna di 69 anni è stata aggredita, è successo all'oreggia, è stata derubata della collana che indossava. La signora stava camminando quando un giovane straniero le ha strappato la collana in maniera violenta, tanto da farla cadere a terra. Per la donna è stato indispensabile l'intervento del pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. La polizia di Stato di Udine ha concluso un'importante operazione antidroga che ha visto il sequestro di oltre 36 kg di marijuana. Recuperati anche una quarantina di grammi di cocaina, 40 mila euro in contanti e due mitragliatrici Scorpion 765. Tutto era all'interno di questo appartamento a Bibione. A gestire il traffico di stupefacenti un gruppo di albanesi accusati di importare, stoccare e spacciare la droga. La procura di Pordenone ha disposto il fermo di quattro persone. Tre uomini che sono stati portati in carcere a Pordenone e una donna che si trova ai domiciliari. Praticava l'agopuntura senza essere medico e senza nessuna qualifica. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Padova, un soggetto che praticava in città e che ora passerà diversi guai. I militari del gruppo di Padova della Guardia di Finanza hanno scoperto un soggetto di etnia cinese che operava abusivamente quale medico agopuntore. Peccato che non fosse in possesso di una laurea in medicina, non avesse mai sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione medica e ovviamente non fosse iscritto all'ordine dei medici chirurghi o degli odontoiatri. Tutte condizioni indispensabili per l'esercizio della professione medica e dell'agopuntura. Durante gli appostamenti i finanzieri hanno avuto modo di osservare un fitto via vai di clienti che entravano e uscivano dal locale posto al piano terra di un condominio del quartiere Terra Negra, adibito di fatto a studio medico. I successivi accertamenti hanno evidenziato come la clientela di questo falso medico fosse composta da persone di varia estrazione sociale e occupazione, dallo studente al professionista, per la maggior parte italiani. Al termine degli accertamenti è scattato il blitz delle fiamme gialle con una perquisizione, durante la quale sono stati sequestrati medicinali e unguenti medi in Cina, materiale divulgativo relativo all'agopuntura e oltre 2.500 aghi per la pratica dell'agopuntura. Allo Stato, oltre che in relazione all'aspetto penale che ha visto soggetto deferito per esercizio abusivo della professione medica alla Procura della Repubblica di Padova, sono in corso accertamente anche sulla sua posizione fiscale, tenuto conto che negli ultimi anni il falso medico non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Otto turisti svedesi sono stati arrestati dai carabinieri di Vittorio Veneto per furto aggravato in concorso ai danni di un negozio di abbigliamento della provincia di Treviso, precisamente di Segusino. Gli stranieri di età compresa tra i 20 e i 40 anni, tutti incensurati, sono stati visti muoversi in maniera sospetta e quindi è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. I militari sono giunti proprio mentre i giovani stavano per salire su un pulmino e lasciare la zona. Sono stati controllati e in una borsa i carabinieri hanno trovato il materiale rubato. Dalle immagini del circuito di sicurezza è emerso che alcuni distraevano le commesse mentre altri individuavano la merce da rubare, toglievano gli antitaccheggio e i capi finivano nelle borse. Stamane sono stati processati per direttissima e condannati a otto mesi di reclusione. E adesso l'appuntamento è con il fisco. Allora, come sempre, la parola passa all'esperto, il ragioniere Alberto De Franceschi. Buonasera a Patrizia Vassallo e a chi ci vede e ascolta. Vi ringrazio per i commenti e per le richieste sulle pagine web a cui risponderò non appena sarà possibile. Se potete, vi invito comunque a seguirci anche nel web poiché in quelle pagine è possibile interagire al meglio per carire ulteriormente i contenuti che tratto ogni sera in questo TG. Questa sera, proseguendo le dinamiche delle dichiarazioni dei redditi e nello specifico del modello 730, vorrei esporvi chi sono gli altri familiari che possiamo mettere a carico nella dichiarazione. L'articolo 15 del testo unico imposte sui redditi, il TWIR, riconosce la possibilità di avere detrazioni d'imposta anche per altri familiari a carico diversi dal conuge o patron e dai figli. Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per i familiari per i quali l'articolo 433 del Codice Civile impone gli obblighi di mantenimento. Si tratta quindi dei nipoti, i figli dei figli, i genitori, i nonni, i generi, le nuore, i suoceri, fratelli e le sorelle. Tutti questi soggetti possono essere a carico se rispettano dei limiti di reddito previsti unicamente se si tratta di familiari conviventi o se si tratta di familiari che ricevono assegni alimentari da parte del contribuente non stabiliti da provvedimenti del giudice. In pratica, se non si tratta di conviventi, il contribuente deve dimostrare di provvedere al mantenimento delle persone in questione per poter avere la detrazione fiscale spettante. Ovviamente, in questi casi, si avrà il diritto anche alla detrazione di tutte le spese effettuate nell'interesse dei familiari. Teoricamente, la detrazione spetta seguendo l'ordine gerarchico dei soggetti tenuti al mantenimento, per cui, in particolare in caso di genitori e figli, il mantenimento, se uno dei genitori lavora e un figlio no, spetterebbe al genitore. Nel caso in cui, però, il genitore con un reddito sia in capiente e in famiglia sia presente un altro figlio con un reddito, è quest'ultimo che può godere delle detrazioni per gli altri familiari a carico, per tutti i suoi congiunti. A chiarirlo è la circolare del 17-2015, nella quale l'Agenzia delle Entrate affronta appunto il caso di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno dei figli sono disoccupati, mentre la madre lavora solo nel periodo estivo e ha un reddito annuo di circa 3.500 euro lordi, per cui non può usufruire delle detrazioni previste. In situazioni simili a questa, l'Agenzia riconosce il diritto per il figlio di avere le detrazioni con finalità di non voler sfavorire i nuclei familiari di questo tipo, per cui è possibile non seguire il cosiddetto ordine gerarchico imposto dal Codice Civile e consentire che le detrazioni siano fluite comunque. Per gli altri familiari che possono essere considerati a carico, la lettera D del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir stabilisce il diritto alla deduzione dal reddito per tutti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti quando il pagamento è imposto da una sentenza del Tribunale. In caso di assegni alimentari, la deduzione è ammessa anche se si tratta di somme versate a favore dei figli, in tutti i casi in cui i genitori non siano coniugati. Esiste infatti una differenza tra le due tipologie di assegni da versare per il mantenimento dei figli quando sono nati durante il matrimonio o al di fuori di questo, in quanto il presupposto per un assegno alimentare, come stabilito dal Codice Civile, è lo stato di bisogno di chi lo riceve, pertanto trovandosi nell'impossibilità a provvedere al proprio sostentamento in parte o in tutto, tramite lo svolgimento di un'attività lavorativa, fruisce di questo. L'assegno di mantenimento invece spetta al coniuge al quale non è addebitabile la separazione, che non abbia però redditi tali che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ovvero sia durante il periodo di matrimonio. La differenza in sostanza la fa il fatto che si tratti di mantenimento dovuto in seguito alla fine di un matrimonio o al mantenimento dovuto dai figli nati fuori dal matrimonio. In questo secondo caso, infatti, non si hanno obbligo nei confronti di un nucleo familiare, del quale fa parte anche l'ex coniuge, a sua volta obbligato dal mantenimento dei figli, ma solo appunto nei confronti dei figli stessi. Per questa sera è tutto, vi auguro una buona Pasqua e vi ricordo che il nostro appuntamento ripartirà puntuale martedì 18 aprile, sempre alle 20 all'interno di questo Tg. Buona serata! Proseguiamo con altre notizie. 35 comuni veneti beneficeranno di 6 milioni e 430 mila euro messi a disposizione dalla Regione per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle strade del Veneto a seguito dell'approvazione della graduatoria relativa al bando del 2016. Oggi l'assessore ai lavori pubblici e infrastrutture, Elisa De Berti, ha sottoscritto a Palazzo Balbi, a Venezia, gli accordi di programma con i sindaci. La Giunta ha dato la priorità alle opere proposte dai comuni, privilegiando gli interventi sulle strade, nelle quali negli ultimi tre anni si sono verificati più incidenti. Pasqua si avvicina e per molti saranno giorni di vacanza da trascorrere lontano da casa. Sentiamo allora i numeri forniti da Federalberghi sul turismo, su quanti partiranno e quali saranno le mette preferite. Sono quasi 10 milioni gli italiani che hanno programmato di mettersi in viaggio per la Pasqua 2017, con un incremento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 93% sceglierà di rimanere in Italia, mentre il restante 7% opterà per una località estera. È in crescita anche il giro d'affari, che si attesta a quota 3,34 miliardi di euro. Emerge dai dati previsionali di Federalberghi sulle vacanze pasquali degli italiani. Ma quali sono le mette preferite per queste vacanze? La maggior parte ha scelto l'Italia, in testa le città d'arte. Il secondo posto viene conquistato dalle località di mare, seguono la montagna e i laghi. Ieri sera a Cittadella, in provincia di Padova, litte tra due stranieri a causa, pensate, di un telefono cellulare. Un motivo banale che stava sfociando in tragedia. Uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha ferito il suo interlocutore. I fendenti lo hanno colpito ad un braccio e alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'uomo è stato ricoverato all'ospedale. Giorni di vacanza, aumento del traffico sulle autostrade. Ecco alcune informazioni utili da parte di Autovie sul flusso previsto lungo l'autostrada 4. Tempo di vacanze e in questi giorni aumenta anche il traffico lungo le autostrade. Secondo Autovie Venete, il flusso sarà determinato anche dal tempo. I primi viaggiatori si sono mossi già dalla mattina di giovedì con un incremento del traffico in direzione Trieste e verso Venezia. Venerdì 14 il traffico si manterrà intenso al mattino con direzione Trieste e con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera. Nel pomeriggio sarà sostenuto. Sabato 15 e domenica 16 non sono previste condizioni di particolare traffico, mentre lunedì 17 Pasquetta i flussi aumenteranno e si manterranno sostenuti per tutta la giornata sull'intera A4 con possibili rallentamenti o code in entrata alla barriera di Trieste e in direzione Venezia per il traffico di rientro. Per quanto riguarda i divieti di transito per i mezzi pesanti, venerdì 14 aprile stop dalle 14 alle 22, sabato dalle 9 alle 16, domenica e lunedì dalle 9 alle 22. Un pullman con targa tedesca è stato rubato oggi a Bardolino vicino al lago di Garda. Dopo la denuncia sono partite le ricerche ma al momento del mezzo non vi è nessuna traccia. Il passaggio del bus utilizzato per il trasporto di una comitiva di turisti tedeschi che ha scelto di passare le vacanze sul Garda è stato registrato diverse ore dopo il furto dai mezzi di sorveglianza lungo l'asse autostradale sul Mantovano. Sono in corso indagini anche da parte della Polizia Stradale di Verona che ha portato a fermare e a trattenere negli uffici due cittadini serbi che a quanto si apprende sarebbero stati trovati in possesso di materiale riconducibile proprio a quel mezzo. Ho trovato anche un gemmer, uno strumento elettronico per impedire ai sistemi antifurto presenti nei mezzi di attivarsi. Le indagini della Polstrada che hanno portato ai due serbi sarebbero partite proprio dall'analisi dei precedenti per vicende analoghe. Siamo arrivati al termine di questo spazio dedicato all'informazione per domani. Le condizioni climatiche sono previste in un clima abbastanza incerto quindi avremo un cielo soleggiato alternato a della nuvolosità. Poi domani daremo un quadro un po' più preciso anche sul clima previsto per le festività di Pasqua. Siamo arrivati al termine di questa edizione. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro una buona serata.